Sì, ho capito, peccati siamo, mi ascemo, sì, ma dimmelo, dimmelo, non mi fa vedere, non capisco una sega, poi, perché questo computerino di appiccinino non vedo, e poi dopo passo per essere cieco, anche se sono, eh, ho capito, tu scrivi teta, ho capito, ma che vuol dire? Ma, Dio, ma, ma caldi, ah, attacca la telecamera, va bene, no, ascia fa, ascia fa. E che vuol dire questo discorso? Io non ho capito che vuol dire, e cioè vuol dire che se uno scrive qualchiunque, parte di noi ci hanno bannato, vero? No, diceva no, fa no. Ah, ho capito, ma che sei sicuro che ci dici? Eh, se te belle finivano, vabbè, cioè se sei sicuro di che tu cresci? A me mi sembra strano, perché se fosse vero, vuol dire che il culo gli sta facendo uiu, uiu, sai che vuol dire a me, detto così, già a me la censura, la censura è talmente ridicola, poi su web la censura è talmente ridicola, perché ti scappa di patto e ti risorte fuori di là, io non ho motivo di non credere che tu mi dici, però se è vero è che tu mi dici, e sono messi proprio male, te lo dico proprio un po', ma male può male, sono messi proprio male se gli hanno queste paure, e vuol dire che non sanno più chi non andare a battere il capo. Cioè l'attesa ha chiamato, e chi ti ha detto? Cioè lui, e con lui come se ne è accorto? Non ti so che dire, non ti so che dire, io non ho mai censurato nulla, semplicemente ho chiuso la discussione quando con della gente sarei arrivati, cioè la discussione non era più una discussione, ma era un vaffanculo la maiale di Tomà, vaffanculo la maiale di Tomà, che non è più una discussione, quindi io ho chiuso la discussione, ma io anche quando mi hanno dato di fezzente, su di fumare, me ne hanno detto tutti i cori, io non ho mai cancellato nulla, non ho mai, ho chiuso la discussione, cioè ho tagliato via della gente, che se tutte le volte tu mi vieni su YouTube o su Facebook scrivi la maiale di Tomà e tu puoi stare a casa tua, no voglio dire, tanto grazie a Dio le maiale le non ci mancano, sicché sono tranquillo che se sono una maiale io, lui ce la guarda, ecco, allora a questo punto dicevo, però censurare chi gli ha detto quando fa un discorso coerente, non mi sembra il caso, mi sembra che la censura la sminuisca più chi la fa che chi la riceve, perché chi la riceve dopo è convinto anche da aver ragione. Comunque questa storia che ci avrebbe portato a far casino era una cosa di già chiara, io l'ho visto da quando sui vari portali dei violini della liuteria dove c'è scritto modifica tetra si arriva a 10.000 contatti nel giro di pochi mesi e vuol dire, cioè si parla di liuteria, non si parla mica di pinfroid o delle cose, cioè se io metto una a gambe larghe dopo 2 minuti c'ho 250.000.000 di contatti, ma se si parla di liuteria 10.000 contatti in 5 o 6 mesi sono un trionfo, cioè della gente la se le sogna, capito? no, io l'unica cosa che mi dispiace è che non hanno capito un cazzo, ma è un problema suo, io non ci posso fare nulla comunque, e ora si farà, ora, stai, ti ha visto, ti ha attaccato la telegramma, e cosa cosa si fa? allora, la storia della modifica tetra sta andando avanti, sta andando avanti a grandi passi, ora abbiamo anche per accontentare anche, diciamo, quelli più scettici, come ripeto a me, per me, nel momento in cui si rimontò il violino e venne fuori questa storia, questa differenza sonora, e se uno non c'ha l'orecchio per sentire se il violino suona bene o no, io non si faccio gli usare, no? Comunque, faccia quello però, per il popolo, perché, come dice il grande Petrolini, il popolo vuole parole difficili, no? quando gli dici le parole difficili, si affeziona, e allora gli dici, ti dà le parole difficili io le parole difficili e non le so dire, no? e allora siamo andati all'università, si è preso una professoressa con tanto di cattedra e con tutta una serie di curriculum, è un curriculum lungo così, proprio di brevetti, storie, sperimentazioni e tutto il resto, ora a fine giugno si faranno le prove definitive, dopodiché la cosa è già stata perrettata, presentata, gli strumenti ci sono già che sonano, c'è tutto il che sona, il problema però che io volevo far passare è il concetto diverso, secondo me, secondo me io e l'Apo siamo degli innovatori veri, ma non per farlo, innovatore può dire anche innovatore è un peggio, cioè io non voglio mica dire, non è che mi autoreferenzio, però dico, se io faccio il liutaio, va bene, l'Apo fa il liutaio insieme a me, e noi francamente, cioè chiunque abbia un minimo di voglia di sperimentare, di provare, di fare cose di questo tipo, cioè francamente dopo 300 anni continuare a fare sempre gli stessi strumenti uguali, penso che sia, allora sì, veramente è un lavoro di artigianato il nostro, ma di artigianato non ad alti livelli, accidenti alle zanzare e a chi di garbiccardo, va, ne dittate, non si dici a dire, stanno subito a me, allora, il discorso qual è l'è? Io penso che sia maturato il momento, cioè il momento è quello giusto, in cui c'è una coincidenza di interessi che se gli utai fossero di quelli che hanno, diciamo, che si levano il terzo occhio e invece di guardare al tetto, no, infilano l'occhio su un palo e guardano il cielo da quell'altra parte del tetto, se ne renderebbe anche conto. Allora, il discorso è l'è, noi ci stiamo in questo momento, una concorrenza spietata che noi non si può battere sul numero, da parte di tutto il mondo, perché tutti danno la colpa a cinesi, ma in mia teoria cinesi ce ne sono tanti di popoli che stanno cominciando a buttare violini sul mercato, non è quello il problema e a noi, francamente, italiani non ci fanno, se noi si reagisse bene non ci farebbero una beniamata mazza, questa roba che arriva, questo sciarpame che arriva, basterebbe però avere un po' di cervello. Allora, io penso che il momento sia maturo perché c'è questa grossa concorrenza, va bene, la necessità da parte dell'artigianato italiano, artistico di rispondere con l'innovazione, con la fantasia, con il cervello, capito? Allora, se uno non fa questa maniera, la luce italiana è morta, va bene? Per cui continueranno i soliti dinosauri a farsi loro affari con tutto questo giro di farsi, violini farsi, violini a bercià, hai la fietta di quello, la fietta di quell'altro, se a uno gli piace più il mondo, io non vengo fuori, cioè io costruisco strumenti, voglio vedere il musicista che suona il mio strumento contento mentre lo suona, non ho che lo pago o gli vado lì se lo vorrei aspettare che vassi dal camerino e dici maestro, maestro per favore sono il liotaio, me lo può suonare il violino se gli aspettano che io faccia quella anticamera lì e lo pigliano un culo, te lo dico proprio papale papale, questi sono i miei strumenti, chiunque ci abbia un mio strumento e suona non ha mai avuto problemi di suonare, per cui la mia soddisfazione è quella lì, i miei strumenti, con i miei strumenti i musicisti hanno vinto premi, va bene, i musicisti no, non i miei strumenti, i musicisti, è questo che a me mi riempie d'orgoglio, non che io sono andato lì da sporca in comunale a aspettare quel violino, ma è quello che lo prova a dirsi, però brava, allora ti fa, posso fare una fotografia maestro con lei? Allora mi faccio la fotografia con il grande violinista di momento e poi in laboratorio attacco, no? Io con il violino mi scrive la firma, quello lì che sono bachi per far attaccare le boghe, capito? Ecco, le boghe, si, tu vai a cercare che sono le boghe, le boghe sono dei pesci di anno di affocano anche se gli metti il dito, ecco va bene, io parlo di un'altra cosa. In questo momento c'è la possibilità, la voglia, le potenzialità da parte degli utali moderni, giovani, non parlo solo di me, ce n'è un sottofondo immenso, che l'unico errore che c'ha è quello di lavorare e ragionare in maniera troppo individualistica. Se cominciassero a guardare un po' in intorno e vedere che c'è una comunità di intenti, invece di questionare, io nelle associazioni non c'entro perché c'è quell'altro, io nella cosa non c'entro perché lui mi sta su coglioni, se guardassero la comunità di intenti, qui che proprio ha fallito il modo di pensare e comunicare, quello di aiutarsi, allora ci sta bisogno dei preti che ci danno l'emosina, è proprio questo, ci sta anche se merita, capito? Se noi ci sta tutta questa potenzialità, sono 300 anni che la luteria non evolve, i teatri stanno chiudendo, dice fuori dall'Italia non è così, fuori dall'Italia non è così, io vedo che la quantità di persone che si avvicinano alla musica classica ultimamente sono molto poche, molto poche e francamente anch'io sono un giusario perché mi metto sempre la musica quando lavoro, francamente anch'io sentire lo stesso capriccio di Paganini, ho suonato, ho storpiato da 2000 strumentisti diversi, mi saprei anche rotto i coglioni, capito? Se io fossi musicista vorrei provare delle cose nuove, delle sonorità nuove, della musica nuova perché io ricordo a questa gente che fa musica, che Paganini ha scritto nel 1800, nel 1700, nel 1800, capricci? E siamo nel 2013, capito? Da già il discorso? Ecco, allora questo fatto qui, se noi non si vuole, ma non che muoia la luteria perché muoia la luteria, che muoia la musica, capito? Da già il discorso? È inutile stare a criticare vari tipi di musica, le varie innovazioni se non propone nulla di differente. Allora io te lo dico, c'è la potenzialità, c'è il momento giusto e poi ragazzi, parliamoci chiaro, ma se te non fai un'innovazione degli strumenti e tutto il resto, ma sempre con soliti violini, ma ci si rigira sempre soliti violini, farsi, 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 farsi tra le mani, c'erano stradivari, 1200 stradivari presenti, ma chi era stradivari? Ma che secchezza davvero? Ma com'è possibile che dopo 300 anni ci sia 1200 stradivari a giro? Ma questi si sono mevuti il cervello, ma non hanno mai visto uno strumento, un mobile di 700, è un tarlo che cammina, ma che si sta scherzando davvero? Ma com'è possibile una cosa di questo tipo? Ma che non gli venga a mente la gente che può dire no, c'è un giro d'affari e noi si va da un'altra parte. Allora, la modificatela, Tudor che nella sua genialità propone una musica tipo classico diversa, innovativa, l'improvvisazione, cioè praticamente l'improvvisazione vuol dire che lui è così, c'è via forza Tudor, mi sento triste, vi faccio un'improvvisazione, prendi il violino e fai un'improvvisazione di tre minuti, va bene? Sono allegro, sono contento, voglio dedicare alla moglie di Fabio, se ne accenna l'altro giorno, te lo ricordi dopo? Mi voglio dedicare alla moglie di Fabio un pezzo e gli sono un'improvvisazione. La musica attualmente, chi è che è in grado di fare queste cose qui? Cioè, uno che deve 20 anni e studia un capriccio di Paganini, e che te lo fa sentire, ormai sono finiti che lo fanno. Dov'è la novità? Ora come ora ci vuole una musica nuova, ci vuole un modo di fare nuovo, un modo di vedere nuovo. A quella maniera si può rilanciare la musica e automaticamente come rilanci la musica rilanci la leuteria perché educhi l'orecchio della gente, il popolo che aspetta invece di sentire le parole difficili, capito? Invece di sentire tutte le stronzate che gli viene rinfilato nel cervello, questo comincia a sentire, però, cazzo, io, questo non è a me mi garba, perché io ho fatto sentire il pensiero numero due di Sudor, che è un'improvvisazione creata al momento, e la gente non ci crede, e lo so che non ci crede, perché non sono abituati a avere fantasia, capito? La gente è diventata una larva, tendenzialmente gli individui sono delle larve, non hanno il modo di pensare su, oh, ma poi basta guardare la gente, vai fuori, non lo voglio dire, sono tutti chiusi nei condomini, non sanno chi c'è di fronte al cartellino, perché il gatto miagola, ma lei si sta a rompire, il gatto miagola, certo, i cani gli abbaia, è chiaro che i cani gli abbaia, è un cane, se fosse un dinosauro, fai ruggirebbe, è un cane e abbaia, per cui voglio dire, il mondo non è l'individuo chiuso dentro la sua cazzo di casa di merda, capito? Perfetta, tutto pulito, che poi dopo fuori la finestra e butta fuori il sudicio, nella strada, è quello che voglio far capire io, se noi si tornassero in un'altra maniera, più aperta, mentalmente più aperta, si vedrebbe, c'è le strade per fare un'innovazione degli strumenti ad arco, perché la modifica se non modifica se, anche se a molti gli erode e ci bannano la parola se, per cui quando uno scrive se non riesce a entrare in un portale o in un qualsiasi altra cosa, e vuol dire che il buco di culo gli sta facendo buuuu, buuuu, sa perché? Perché non hanno nulla da dire, capito? Gente che arriva a fare queste cose lì, vuol dire che non hanno più nulla da dire, si renda in conto che gli sta scappando dalle mani l'innovazione e la voglia di fare e non sa, non dove andare a battere il capo, allora ti bannano, ho capito anche le parole, modifica detta, bannata, cioè se io voglio fare una cosa per scrivere un articolo sulla modifica detta non posso entrare in quel portale o in quella cosa perché hanno bannato la parola, cioè queste sono cose che sono di una tristezza che giusto un povero di spirito può fare, non certo una persona che non ha paura di nulla perché c'è la forza delle proprie convinzioni. Detto questo, quando si arriva a queste problematiche ci si vedrà a settembre, come gli disse, ci vediamo a Filippi, capito? A settembre noi a Cremona c'è chi da Cremona mondo musica è scappato e non ci vuole andare perché non aveva nulla da dire, capito? E ha lasciato il posto a tedeschi, a francesi, capito? E poi dopo i chiari non scappa mai, capito? E te l'avo tu sei con me, tu lo sai, lo sai, noi non si scappa mai. Per cui noi a settembre presentazione della modifica detta con tutte le nuove misurazioni e le strumentazioni da parte dell'università. Quindi un po' san venirà a dire nemmeno che gli si è pagato quello dello studio che si è fatto le prime cose, punto primo. Punto secondo? Strumenti nuovi. E poi punto terzo, chi quadratura del cerchio qual è? Tudor, Coelvis, che lo promuove, che improvvisa, lui con il suo genio, noi con la nostra modifica e Tudor con la sua genialità per quanto riguarda la questione di filmato e tutti presto e si presenterà là. E poi dopo vediamo i chiedi hanno da controproporre. Cosa mi fanno rivedere? Un altro violino tutto uguale che se non vuoi leggere il nome dentro non so chi l'ha fatto. La gente vuole questo, se la gente vuole questo se lo tenga. Capito? Io sono differente, a me non mi è pregato nulla, mi dispiace, io ho il diritto per ogni strada, sono sicuro delle mie cose e sono felice, capito? Ma contento, soddisfatto, non se lo posso non immaginare. Ecco, detto questo ora, io ci avrei da cominciare anche a lavorare. Mi dò tu me la messa, la sgorgella, la letti là sul coso. Vabbè, andiamo, si piglia un diacciolino, un diacciolino perché forse no, la portai nella bofrostesi, andiamo a pigliare il diaccio, dai, e poi si continua a lavorare.